Hai sentito parlare del minimalismo e vorresti capire per quale motivo dovresti abbracciarlo? Bene, guarda questo video e lo scoprirai. Ciao, sono Roberta e bentornata su Io Riconincio da me, il canale dedicato alle donne che vogliono cambiare la propria vita attraverso un percorso di crescita personale. Se hai sentito parlare del minimalismo ma non sai bene che cos'è, ti linko qui un video che ho fatto in merito. Se in realtà sai più o meno che cos'è ma vorresti capire perché dovresti abbracciarlo, quali vantaggi può portare davvero alla tua vita, bene, in questo video ti do 6 buone ragioni per abbracciare il minimalismo. Il minimalismo non ha una definizione uguale per tutti, quindi in realtà se quello che fino adesso ti ha bloccato è stato il fatto che hai visto cose strane di persone che vivono in una maniera davvero molto frugale e assurda, beh, ricordati che questo non è il vero minimalismo. Per fortuna il minimalismo è diverso a seconda di ogni persona, perché la base del minimalismo è vivere con solo le cose che per noi sono importanti e utili. Il primo vantaggio è che avrai più spazio, più spazio fisico e mentale. Infatti il minimalismo ti dice che devi vivere con solo le cose che sono per te importanti e utili. Questo vuol dire che devi liberarti del resto, liberarti delle cose fisiche, degli oggetti, di quelli che magari hai e non ti servono, di quelli che hai tenuto perché non si sa mai, di quelli che hai tenuto perché me li hanno regalati e non voglio dire che li ho buttati, di quelli che tieni perché insomma ce li ho e cosa ne faccio, di quelli che tieni perché magari li hai comprati e hai speso un sacco di soldi e addio come faccio a liberarmi. Beh, tutte queste cose in realtà vanno date via. Cosa farne? È un altro paio di maniche e te ne parlerò nel video del decluttering, ma in massima le devi eliminare dalla tua vita perché se non le usi, se non ti piacciono, se non ti danno una sensazione di gioia, non servono a niente e quindi devi liberartene. Ma non è soltanto lo spazio fisico, è anche lo spazio mentale. Quante attività ci dobbiamo fare perché ci sentiamo di dovervi fare ma non vorremmo farle? Quante persone frequentiamo perché pensiamo che dovremmo farlo, ma in realtà non ci sentiamo bene quando siamo con loro, non ci danno una sensazione di benessere, anzi magari sono anche tossiche, beh, anche di quelle cose dovresti liberare. Il secondo vantaggio, il secondo buon motivo per diventare minimalista è che avrai più soldi. Perché quando smetterai di comprare solo per il gusto di comprare, quando capirai che determinate cose in realtà non ti servono, quando capirai quali sono le attività che ti va di fare e quali no, riuscirai a spendere i tuoi soldi solo per le cose che sono per te davvero importanti o utili e smetterai di spenderle in altre. E questo farà sì che paradossalmente tu possa avere anche delle cose che valgono di più, ma aver speso di meno. E questo ti permetterà o di risparmiare, o di vivere meglio con i pochi soldi che hai, se per caso già ne hai pochi, o magari di risparmiare grosse cifre per qualcosa che per te è importante, per un sogno, o anche semplicemente di decidere di utilizzare meglio i tuoi soldi per le cose che per te sono davvero importanti. Il terzo buon motivo per diventare minimalista è che smetterai di comprare per consolarti. Spesso e volentieri infatti si tende a comprare le cose quando si aiuti morale, quando le cose non vanno bene, quando ci si annoia anche banalmente, perché vuol dire che all'interno di noi c'è qualcosa che non va, nel senso che ci sono delle sensazioni e delle emozioni che non riusciamo a vivere come vorremmo, o qualcosa che ci dà comunque un senso di insoddisfazione generale, e pensiamo che comprando qualcosa ci sentiremo meglio. In realtà quello che viene da questo comprare è davvero una sensazione di miglioramento così minima che sparisce molto velocemente. Quando tu quindi smetterai di avere questo atteggiamento consolatorio, non soltanto smetterai di comprare cose che non servono a niente e che ti intasano la vita, ma riuscirai anche a capire probabilmente quali sono le emozioni che ti spingono a fare questa cosa, e quindi riuscirai ad avere un atteggiamento migliore per risolvere quei problemi e quelle sensazioni negative che ti hanno portato a questa sorta di shopping compulsivo. Il quarto buon motivo per diventare minimalista è che avrai un modo di vivere, un atteggiamento più ecosostenibile. Infatti il fatto di continuare a produrre per comprare in maniera massiva e consumistica come facciamo oggi è qualcosa che in realtà fa sì che si finisca ad avere molte più cose nelle discariche, il che non va bene. Consumiamo molte più risorse e energie di quelle che dovremmo per cose che poi in realtà non ci portano neanche un valore aggiunto e questo è deleterio non soltanto per il nostro pianeta ma anche per le generazioni future. Io non sono una persona particolarmente rigida su questo, nel senso che adesso non dico che uno debba evitare di produrre qualunque cosa, ma produrre per buttare è sbagliato. Vivere in maniera minimalista farà sì che questo atteggiamento diminuisca e che quello che viene prodotto viene prodotto davvero perché serva a qualcosa e non semplicemente per un ciclo consumistico che è fine a se stesso. La quinta buona ragione per cui dovresti pensare di abbracciare l'animalismo è che smetti di paragonarti agli altri perché cominci a vedere il successo in una maniera diversa. Oggi infatti vediamo una persona di successo, vediamo il valore delle persone basandoci su quello che loro posseggono, su quello che loro possono fare, su degli standard che ci vengono dati da questa mentalità consumistica. Quando in realtà non è quello il valore di una persona, una persona non vale in base ai soldi che ha, una persona non vale in base alle cose che può fare o alle cose che possiede. Questo atteggiamento quando vivrai in maniera minimalista cambierà e quindi tu vivrai in maniera migliore, non soltanto perché vedrai in un modo diverso le altre persone, ma soprattutto perché comincerai a vedere te stessa e il tuo valore e il tuo modo di essere, quello che tu sei e che vali in un'altra prospettiva. Vuoi sapere qual è la migliore delle ragioni per abbracciare il minimalismo? Quella che davvero dovrebbe spingerti a farlo? Il fatto che quando vivi in maniera minimalista, finalmente vivi in una maniera migliore, vivi meglio, perché impari a vivere per te stessa, per quello che per te è davvero importante. Impari a valutare le cose e le esperienze in base a cosa ti danno, in base a come ti fanno sentire e capisci appieno cosa per te è davvero importante. Questo farà sì che tu viva davvero la tua vita in una maniera migliore, che tu ti senta appagata, felice, sicura, certa che ogni momento vissuto è quello giusto per te. Per questo motivo quindi dovresti assolutamente abbracciare il minimalismo. Poi ti dico, secondo i tuoi standard, nessuno dice che tu debba avere un piatto e un bicchiere, assolutamente no. Il minimalismo vuol dire liberarti di quello che per te è in eccesso, secondo le tue necessità e il tuo modo di vivere. Capire davvero cosa ti serve, cosa è per te importante e limitarti a quello. E ripeto, non vuol dire vivere in maniera frugale, a differenza di quanti inoltre altri pensano. E se vuoi saperne di più, su questo canale trovi molti video dedicati dove ti parlo di come mi sono approcciata al minimalismo, come vivo il minimalismo e come porto il minimalismo nella mia vita di donna normale, con una famiglia, un figlio, un lavoro. E se vuoi saperne di più, qua sotto, nell'info box, trovi il memo che ho preparato per te con i 5 passi per abbracciare il minimalismo e la checklist sul decluttering che penso possano aiutarti a compiere i primi passi verso il minimalismo. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Nel caso ti prego di mettere un like e di inoltre alle persone che pensi potrebbero trovarlo utile. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. E ti faccio presente che nell'info box troverai una serie di video che ho già fatto e che puoi guardare se vuoi saperne di più. Ciao e alla prossima! Grazie a tutti!